ben ritrovati a questa nuova puntata di salva un amico ci troviamo al parco canile empa di monza siamo in compagnia di stefania e del piccolo grisam esatto grisam è dal nome particolare si è un cucciolotto di pastore un maschietto e ha circa quattro mesi da quanto è qui in canile allora è qui da noi da circa un mesetto in realtà lui è l'unico maschietto di una cucciolata di cinque e le altre erano tutte femminucce qualcuno ha già trovato casa fortunatamente quindi lui deve ancora trovare casa qual è la famiglia ideale per grisam allora lui è un concentrato di energia infatti se vedete anche adesso non sta mai fermo è un amante dell'acqua tra l'altro adesso che cominciano le belle giornate lui è lì che zampetta nella ciotola tutto il tempo però potrebbe essere adatto anche perché no a una famiglia la prima esperienza l'unica cosa appunto che abbia tanto tempo da dedicargli per farlo crescere nel migliore dei modi diciamo ecco qui lo state educando ad andare a passeggio al guinzaglio come si comporta allora lui quando è arrivato ovviamente non conosceva nella pettorina nel guinzaglio adesso è migliorato moltissimo ieri è venuto a fare una camminata con noi al parco e si è dimostrato molto bravo anche lì quindi ci sono delle buone basi perché diventi un super cane insomma è una futura taglia e allora sicuramente una taglia media poi ovviamente dire il peso esatto è difficile però insomma crescerà ancora sicuramente una taglia media comunque ecco l'ideale è una casa con giardino comunque portarlo fuori a fare tante passeggiate esatto lui deve conoscere un po ancora tutto quello che c'è fuori nel mondo quindi diciamo che il giardino può essere una cosa in più ma il cane ovviamente non deve vivere solo solo lì magari può essere un buon posto dove fare delle attività condivise con la famiglia va d'accordo con gli altri animali può andare d'accordo con i bambini allora sì lui è un po' salta un po addosso a dei modi di fare un po da cucciolone che magari come insomma a bimbi troppo piccoli possono può spaventare però comunque un è un cucciolo molto buono perché no potrebbe fare la felicità anche di qualcuno con dei bimbi esatto e se una famiglia ha altri animali può allora lo comunque lui tendenzialmente se non conosce un altro cane o un altro gatto abbiamo fatto una prova qua coi gatti qua da noi i primi due minuti abbia dopodiché basta in realtà è andato d'accordo con tutti quelli con cui l'abbiamo provato perfetto quindi speriamo insomma che grisam che come le sue sorelle possa trovare anche lui presto una famiglia esatto per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile chiocciola enpamonza punto it grazie a tutti Grazie a tutti.